La Guardia di Finanza di Pescara, dopo aver smantellato una maxitruffa a livello nazionale, indaga sugli abnormi rincari dei carburanti per accertare eventuali leciti di rilevanza penale. Ieri, 17 marzo, infatti, nell'ambito dell'operazione No Stop, è stato avviato un piano di controlli ai distributori di carburante che prosegue senza sosta H24 anche nei fine settimana. L'obiettivo è quello di accertare eventuali condotte a danno dei consumatori. Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, il colonnello Antonio Caputo. Dopo l'operazione Euronero, che ci ha permesso di scoprire, di disarticolare un disegno criminoso su tutto il territorio nazionale di rilevante frode all'IVA, la Guardia di Finanza di Pescara prosegue per garantire un presidio H24, weekend compresi, sul settore del commercio dei carburanti. Proprio ieri abbiamo avviato una specifica operazione, l'operazione No Stop, cioè un piano di controlli nei confronti dei distributori di carburanti per andare ad intercettare eventuali elementi sintomatici di manovre distorsive della corretta formazione dei prezzi di vendita. E svolgeremo questo piano di controlli risalendo la filiera commerciale per andare ad individuare in quale step della filiera possono annidarsi abusi, irregolarità, che finiscono per pregiudicare i cittadini, che finiscono per pregiudicare anche gli operatori commerciali che svolgono attività di trasporto delle merci. E questo è un altro esempio di come la Guardia di Finanza sia a fianco alla collettività, a fianco degli operatori che svolgono il loro lavoro per il rilancio dell'economia.